Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Leontrip Ok, siamo al giorno 59 e l'andata arriva il giorno 68 In realtà è andato perso un episodio perché il programma di registrazione ha deciso di non registrare E io me ne sono accorto praticamente adesso E quindi partiamo da qua Cosa ho fatto? Ho fatto... Ho ricercato tutto qua Ho ricercato tutto qua Sto in una ricerca dei Thanatos Fa la gnomeria a posto ragazzi Ho fatto il laboratorio di ingegneria per costruire le... per addestrare le varie unità I Bambot costano 5000 oro Ne faremo uno proprio per vederlo ragazzi Ma non penso lo useremo mai Perché costa veramente un fracco Siamo producendo 1500 oro Sto posizionando tutte le case a legno E... niente, questo è Quindi io adesso mi andrò a fare un altro po' di elettricità Appena arriva un po' di spicci E qua con questo soldato sto andando a raccogliere tutte le risorse che ci sono in giro per la mappa Qui sto facendo dei soldati per affrontare questa... questa zona Qui ci dovrebbe essere ancora delle case Ah ma c'era un altro qua E... E... Credo che qua non ce ne siamo più Adesso la prendere Va bene E dicevo... Ok il titan è pronto Lo stavo già facendo ragazzi Forse giusto qua andiamo a vedere qua cosa c'è C'è una parte scura Dice che c'è ancora una casa Ma non saprei ragazzi questa casa dove cavolo sia Qua non c'è Vabbè E quindi Ovviamente la casa secondo me è qua O qua Direi che al giorno 60 Sì possiamo anche partire dai E qua ragazzi vedete Ho scoperto questa parte qua che qua è uno Una parte dove arrivano E sto cercando di andare a chiuderla Piano piano Sto facendo comunque altri soldati che vadano fino là in fondo Ah Cliccando dopo due volte sulla caserma Viene fuori Tutte le caserme Ah ah Non lo sapevo Questo l'ho scoperto praticamente adesso Titan lo mettiamo qua La difesa E me ne vado a fare un altro Lo mandi qua E poi vediamo Volevo addestrare con l'unità là Per Somma Vediamo un po' come funziona Potremmo fare anche un'altra piattaforma di petrolio Sapete Oro 1200 No no falla dai Ok il petrolio ho visto che Serve tanto In giro per la vampa non ce n'è più però Siamo prese tutte Sì Vabbè c'è questa miniera qua da prendere Ti farebbe guadagnare ancora di più Ma non ne vedo la necessità attualmente E Farei più che altro così Chiuderei qua Sì 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 Chiuderei qua Questi li mandiamo indietro Titan è pronto Adesso andiamo a fare un altro Ovviamente Facciamo il nostro patrol Da qua Da qua Yes Così proteggete questa zona Ora ragazzi Questi sono arrivati Tutti qua Quanti ci sono Sono 87 Sono 87 soldati Sono serio Ma che cazzo sono questi soldati Questi quanti sono? 21 1 e 2 Ok Rieccoci qua Non so da dove però Perché Ci è frizzato tutto Raga E non mi ricordo Dove avevamo interrotto Qua dovevamo fare Da cavolo di roba Questi li spostiamo indietro Andiamo a farci altre unità Anzi Non così Abbiamo visto Lo facciamo prima E poi Questo Andiamo a farne un altro Dove cavolo è? Dai L'ha messo di qua il titano No non c'è Qua c'è il titano No Quindi qui il soldato Deve ancora recuperare la roba Poi il soldato L'ho mandato a recuperare tutto Ok Poi ci andiamo avanti con questi Vediamo quando i titani Fanno il suo lavoro A quanto pare Questa è l'unica strada Che ci rimane Quindi Qua deve essere l'ultima casa Perché i villaggi Non li abbiamo distruggiti Di tutti Gli abitanti siamo a posto Perché siamo a mille Tre E noi dovevamo Ah no Due mila dobbiamo raggiungere Ma ci arriveremo Tranquilli Trovoratore abbiamo 21 Va bene Possiamo anche decidere Di andare ad accoledare Qualche caso Così C'è un proprio soldi Corrente ancora ce n'è Però io direi Di farci anche una Centrale elettrica Ah è qua La piattaforma petrolifera Che però Non riusciamo a raggiungere Maledizione Non possiamo raggiungere quella Attenzione Ma credo che L'avevano già fatto Vabbè Allora Qui le case Vanno ovviamente Compate E mi serve L'elettricità Dove sono i miei mulini Andiamo a credarli Guardate quei mulini Che sono gratuiti Eh Quasi Guardate Il mighty titan Is here Il mighty titan Vediamo se riusciamo a raggiungere Un po' di soldi Da aggredare ancora questi 500 Ne facciamo 3 Ok 1.500 Ne facciamo 3 Quando arrivano i soldi Li facciamo tutti Giusto? Ne mancherebbe uno Lo aspetto ragazzi Perché se no Non lo troverò mai Quest'uno Aspetta un po' di soldi Che arrivano Faccio anche questo mulino Avanzato Fatto? Non saprei Stiamo a posto I mulini Guardate sì Vediamo che costruiamo questo Ci guardiamo Questo qua è mezzo Ok Andiamo avanti qua Guardate quelli che sputano Primo per favore Stiamo a posto Mi ha pensato Buon target Spero è stato bello Che arrivasse Un po' più esercito Primo Spalto è questo Poi 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 Mi muoiono abbastanza soldati Mi devo dire Guardate Vedete appena fate un passo Mi massacrano Ma ci arriverò alle case Prima o poi Allora dove sono tutti i miei soldati Che ho fatto Ma li abbiamo fatti qua Ma li abbiamo minimamente mandati su Ecco perché sta morendo Questi Dove vanno Vanno tutti qua Questi Vanno tutti qua Ehm Va bene Vado a creare altri Ok Perfetto Le caserme sono tutte a posto Qua stiamo a posto Un altro titano Lo mandiamo qua Qua ragazzi Facciamo il muro Ah Quasi così Vuoi fare un'altra Sì Vuoi fare un'altra Di queste Il muro ce lo facciamo qua Patron Tu vai Insegui Vai Insegui qualcuno Ti vai ad inseguire tu Ah vedete Qualcuno c'era ancora qua Ma mi è setto Ah si nascondevano proprio qua Nell'ombra Carini Va bene Mentre questo soldato va in giro Ad accoppare qualcuno Se lui auto ricercherà gli zombie E quando ne troverà qualcuno Li ucciderà da solo Io vorrei anche andermi a prendere Questa Cosa di petrolio Almeno ve lo citiamo non poco Nel frattempo che arrivano Tutti i nostri soldati qua Di scorta Stiamo qua Ma rimpiazziamo i morti Rimpiazziamo i morti Stiamo al giorno 68 Devo riuscire a distruggere quella cosa là Prima Ovviamente Dicevo prima del giorno 70 No 68 Siamo al 64 Perché? Perché Ovviamente Vorrei Non vorrei problemi insomma D'accordo Qua ci faccio la mia linea Le robe Non so se Ho fatto bene Ma vabbè E qua Un altro muro Aspetta Ok E quale balliste Allora Una Due Due E tre Molto bene Qualcuno ci sta La mettiamo Poi andremo avanti a costruire il nostro muro Ma Si sono intrigati qua adesso Vabbè Arrangiate Vabbè vi libero Però è l'ultima volta Dicevo liberale Non credo Perché anche se io mettessi il cancello qua No no si si Io liberati Ringraziatemi Ok Ok Qui un altro vesper ci sta Non è quattro Qui mettiamo La torre di vedetta In modo da Aumentarne il raggio Ma chi? Ah perché questo è venuto Ovviamente a ricercare Perché non ce ne vivo allora Questi sono arrivati Adesso ragazzi Però Andiamo avanti Abbiamo zero lavoratori Tutto bene Volevo fare una cosa Questo mulino qua Ah vedete Ce ne sono ancora due Quindi Stiamo proprio messi benissimo Questo lavoro Ho rifinito il cibo Qualche fattoria però Diciamo farla Qua le ho upgradeate Sto fattorie Quindi Vabbè Altro che fermare Cato per l'influenza del magazzino qua Che Ovviamente No mancano i soldi Vabbè Una basta e avanza Per il momento Andiamo avanti con questi va Quanti siamo adesso? 30 Oh adesso dovremmo farcela no? Eh le case saranno in ultima no? Beh non è che stanno qua Proprio in fondo in fondo Sparate sta casa Sparate sta casa Sparate anche a tutti gli altri Vanno dove ci siete Prima di creparci Vediamo se riescono a resistere Non vorrei che ci morissero tutti Però i ciccioni sono ciccioni e Ce ne andiamo Ce ne andiamo Sono qua tre anni Riusciamo a farcela? Non ti muoiono i cicchini Abbiamo visto però che qua c'è la casa Eh sono pochi adesso Sono pochi lo so Dove è la meraviglia? Lavoratori 50 Legno tot Cazzo Ma questi Ci fanno qua Scusatemi ma Perché vi siete ammassati qua? Perché non riuscite a passare? Non riuscite a passare scusa Cazzo non riescono a passare Porca amici Qua avevo le giardie della vita Guardate le quali le giardie della vita Adesso vi faccio vedere io Questi sono 42 Quando arrivano fanno lo sfacelli Sempre si arrivano in tempo Vedremo Ok Qua adesso stiamo protetti Di brutto anche Potenziamo queste ma Ok Adesso stiamo a posto E le case Potenziale Ah le potenziamo quasi tutte Avete visto Ok guardate qua Ok qua stanno arrivando i rinforzi Questi saranno i rinforzi della vita Migliorare a villa di pietra Non la voglio migliorare di pietra Vabbè una sede Anche questa dai Questi saranno i villoni di pietra Ok A parte che pietra Ne abbiamo un botto Però fare le villa è il cibo che manca Non è la pietra Posso fare direttamente le fattorie potenziate Grazie Oh 130 Oh 130 Ok Adesso vediamo chi è il cagetta Cagetti Venite qua Vediamo chi è il cagetta Venite venite Stronzi venite Sì 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 Sparate Sputate Sputate Sputatevi addosso Intanto il crimine serpeggia Ma mi dai un attimo che faccio fuori sta casa Prima di Spammarmi ste robe che arrivano da all side Sparate Il cristico Violin C'è un po' equipped Tiralo giù Tiralo giù Sparate Stiamo a fare un tubo qua Attenza Ma qualcuno di È un'altra cosa Il problema I pentru È un problema Aнд Sì Mi ignoring Mi farò Mio Ma Devo tornare indietro qua Allora, come si fa qui per proteggere sta roba? Ha Si farebbe così Troppo i soldati qua mi devono tornare indietro I costi Last night that dream of rain is exploding Let's go Ma quanti cazzo ne vengono fuori ogni volta qua? E basta Finiamo? Finiamo sta roba? Ok Poi abbiamo costruito? Sai che mi serve sta roba qua? Vabbè li mandiamo indietro qua raga E poi Ne siamo Facciamo fuori questi Ok Tornate indietro va Anzi Vi dirò State qui Vediamo se facciamo una bella cosa Non credo Se non funziona abbiamo buttato via la partita Però insomma Ci prova Ok Adesso facciamo un muro qua Quanta corrente? Non molta Però forse è sufficiente per una Tesla Questa è la Tesla Questa non è la Tesla Non mi ricordo mai come cazzo si chiama quella torre Scusa No Solo questo per favore Me lo utilisco Grazie Sto impanicando Ok Vai Ah si facciamo un'altra Fattene due no? Bene qua stiamo a posto Poi torniamo indietro con l'esercito pian piano Spariamo Inditreggiamo Spariamo Inditreggiamo E poi Questi quanti Questi li mettiamo qua Un po' sparpagliati magari Andrò un attimo Qui mi serve Il muricciolo Perché ovviamente Quel punto lì me lo assalteranno Qua c'è un Titan Ok no In realtà qua ce ne sono due Riusciamo a fare un altro al volo? Ok Ok Questo mi piace Riescevi ad andarmelo in fretta qua questo? Non credo Quattro ore Non so se ce la fai a farmelo Vabbè qua non passeranno mai Qua non passeranno mai Qua figuriamoci se passano Non è vero però potrebbero passare Io poi glielo mando Perché qui No 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 Non passano neanche qua Non passano neanche qua Qui invece mi preoccupa la cosa E qua arriveranno tanti Ne arriveranno tanti Tantissimi ne arrivano qua Questi stanno sparando Eh ma sono troppi qua Si avvicinano Allora andiamo a vedere da tutte le altre parti Cosa succede Chi sono questi? Oh cazzo Ma sono tutti i Beemoth? Ma sono tutti i Beemoth? Oh cristo Fermi tutti Allora Che cosa posso fare per te C'è un'altra bella linea difensiva qua E' un'altra bella linea difensiva qua E' un'altra bella linea difensiva Un momento Oh cacchio quindi arriveranno anche qua i Beemoth? No 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 Ripariamoci dietro il muro subito Please Perché stanno morendo qua Ah qui Qui non devono passare Quindi cerchiamo di Tirare un'altra bella linea difensiva qua E qua mi servivano i titani Qua ci sono le Shocking Tower Un po' di difesa c'è in realtà Però sono i titani che mi servono Soprattutto qui Qui stanno sparando Qua scoprono qua Siamo riusciti a reggerli Piano piano eh Piano piano Abbiamo un problema Che non immaginavo che arrivassero tutta sta gente Allora Vediamo un po' cosa riusciamo a fare qua Ok Serve pietra Perché non devono sfondarne qua e ne qua Cacca parola Metticeli dentro Eh no C'è il cancello però Vammi sta cosa Qua non arrivano Qua arrivano gli zombie normali Bene Deviamo andare qua in fretta e furia La farò mai Vabbè allora se crolla questa Io posso ripiegare qua E qua sto ben difeso Se crolla questa invece no Mi devono Mi devono coppare questi Guarda che roba qua Qua è già crollato tutto Allora Allora La pietra perché non arriva Mi serve la pietra Mi serve la pietra Mi sa che non ce la si fa E che l'ultima ondata avrei dovuto tenere i soldati A difesa Ma sì Ma ne abbiamo coppato manco uno Cioè Eh ma qua passano Quello l'ho fatto Allora Come è che questa partita Non la voglio perdere No Eh Ecco questo per favore Stiamo a demolirle Sì C'è cinque Ah questa no Qua hanno fatto breccia E che non mi costruisce Scusa Non sono sufficiente No ho finito l'oro Bene Quanti sono Uno sta anche morendo Però Dove è il mio esercito È lento Il mio esercito è troppo lento Da arrivare Questi mi entrano E mi spaccheranno Qualsiasi cosa Proviamo a mandare un titan qua Niente Niente Il nostro mutante Da Tot Mila Mila dollari È andato Non lo devo aspettare Che alla fine Uscivano tutti questi Lo dovevo aspettare E tra l'altro Vedete Qui Quasi quasi ce la facciamo Anche però Se avessimo gli uomini Qua ce l'avremmo fatta Niente I titani sono andati Verrà che con che velocità Demoliscono il villaggio È assurda Come cosa Ma almeno abbiamo resistito Un po' Almeno qualcuno L'abbiamo accoppato Niente Niente Ma è finita Eh vabbè Non mi ricordo quando aveva salvato Il gioco Però probabilmente ragazzi Vabbè Proviamo a rifarlo E vedremo Insomma Se ce la faremo Perché qui Mi servivano Molte più difese Queste arrivano in massa Abbiamo visto che Da qua sono arrivati Sono arrivati In che da qua Hanno spaccato qua Hanno spaccato qua Hanno spaccato qua Queste robe sono inutili Hanno spaccato Qua non hanno spaccato niente Qua hanno spaccato solo le balle Penso Qua arrivano i nostri soldati Adesso Ma è tardi E' tardi E' tardi E' tardi Va bene Questa volta ci riproveremo Dai Quindi Vabbè Ovviamente ora Non la recuperiamo più Perché Qua non li fermiamo più Sono troppi Non so quanti sono qua Ma Qualche centinaio Ci sono Formati Forse anche di più Forse anche 3-400 Poi devono ancora finire qua Di spaccare case Figuratevi Quanti cavolo di zombie escono Fate conto che una casa Ospita 8 coloni Quindi la spaccano Vengono fuori 8 zombie Ce ne sono un bel po' E non abbiamo più difese Quindi vabbè Ci riproveremo la prossima volta Riprenderò solo dall'ondata finale Ragazzi E Speriamo di farcela Perché se no Non riusciamo a fare questa Non riusciamo a fare l'altra E Siamo bloccati qua Vabbè Grazie a tutti Presto stati con me Ci vediamo alla prossima ragazzi Se l'entripe è tutto Ciao ragazzi Ciao Grazie a tutti.